Ah, Zimone! Zimone! Che ci dicono di bello questi? Eh sì sì, ho frottato un po', ho frottato un po', nonostante le aspettative. Chi è questo, ragazzo? Un personaggio nuovo. Quindi torna a delirio, praticamente, in Duskmoorne. Un Jund, World 2, all'inizio del tuo upkeep ogni giocatore pesca due carte, ogni giocatore. Con delirio, fino a che ci sono... vabbè, che cos'è che fa? Non ci sono... non hai un limite di carte massimo in mano. Aspetta che abbasso un po' il volume di Twitch. Ah, non lo so, quattro mana, mi sembrano tantini, comunque. A parte che possiamo bussare a Magic. Anzi, a proposito di bussare... Io so se c'è qualcuno che la sta guardando, facciamo sta caponata. Allora... Non è solo che conosco. e scelera così scelera così Dusk Morn quindi questa è una meccanica nuova quando un incantesimo nei controlli entra nel campo di battaglia e quando tu hai completamente sbloccato una stanza questa carta ha un effetto ok io provo a bussare che mi dicono se busso aspetta facciamo scriviamo aspetta facciamo così carta nuovisti ho scritto carta nuovisti nella chat un nuovo granchio sì sì un'altra espansione robbie scriviamo anche very strong quindi diciamo diciamo che vuoi giocare dollmaker shop porcelain gallery quando vai a cast the card pick which side you'd like to have the effect of up front e then it'll chill on the battlefield as an enchantment e then later on whenever you like you can pay the mana value of the other side questa cos'è che dice quando uno più non toy creature che controlli attacco un giocatore fai un 1-1 we really want to have two effects on a room because we want to feel like we're expressing like the real massiveness and you know what's behind every door of the setting so ah ho capito ho capito quando praticamente riempi la stanza vale anche quell'altra vale anche quell'altra parte della carta praticamente quindi questa è la meccanica della stanza ma io do voglio pausare l'art style in questo video è veramente cool molto unico per la magia e anche proprio creepy eh no sarà una carta normale splittata cioè sarà una carta normale suddivisa così sarà così quando stavamo quando stavamo la concepita l'art I said I want the house to be a character maybe 3 million times until it's sunken you know and the artists did an amazing job the rooms normally have two sides mechanically they need two sides but I was like instead of having frame cut the room in half why don't we have art that shows you what's between the walls this has a little a bunch of scary monster doll arms come i design sembra figo comunque i disegni sono sempre bellissimi su questo non sbagliano mai a livello di concept a livello di direzione artistica non sbagliano mai è un'espansione un minimo ricorda innistrad però non completamente sì secondo me sarà bella sarà molto bella questa qui e diciamoci la verità le ultime non sono state proprio così belle secondo me almeno a mio gusto bloomboro non mi cioè come proprio dico come ambientazione direzione artistica bloomboro non mi ha proprio ma anche otj e anche murder at carlo manor non mi ha fatto impazzire cioè tipo innistrad del mio piano preferito come ambientazione questo non è uno spirito però vabbè questo è limited material dai eh può essere ci sta se mantengono un po' l'ambientazione tipo innistrad ci sta ah lo ski tank è bene Duskmoon si accettare ori 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 L'arte è bellissima E la carta... Cioè, di solito queste carte... Non è forte incostruito, secondo me, però... Cioè, quando hanno questo effetto, solitamente fanno solo danno Questa fa danno e fai un punto vita Rimane comunque la carta a me, però... Cioè, non è una carta, secondo me, che viene giocata da Limited Però potrebbe essere un indizio che il power level comunque è un attimino ritoccato verso l'alto No, però adesso no Scompo che i pistelli volendo, volendo sì La cosa che è speranza in questa stessa piazza Stiamo parlando prima in sviluppo Questa deve essere qualcosa che guida a la gente a survivare Perché ci sono survivanti dentro del house Che erano da questa flotta Stai guardando uno di loro Quindi glimmers sono una manifestazione di quello che ti amo, di quello che ti spero Di quello che ti chiede o di quello che ti ricordi E scrivono qui Beh, i commenti sono tutti belli, bellissime, bellissimissime Ciao, calenda Ah, vediamo questa Vediamo questa Tre mana Life Link Quando uno più altre creature controlli con forza 2 o meno entrano Pesti una carta Questo evita a trigger una sola volta Quando Enduring muore Se è stata una creatura Rimettila sul campo di battaglia come incantesimo E come incantesimo Ah, ok, diventa incantesimo Ho capito, ho capito Non lo so, calenda Mi sa che è iniziata adesso Cioè, rimane incantesimo che fa la stessa cosa Quindi la passiva Non è male sta cosa qua, eh Vogliono venderle Questo set vogliono venderlo Se casti questa spell per il costo impending Entra con End e Time Counter E non è una creatura A meno che l'ultimo non sia rimosso Ok È tipo Suspend Ma rimane il permanente sul campo di battaglia Quindi Figo Figo Cioè, tipo questo lo puoi giocare a 4 Ti fa comunque due pezzi E poi diventa creatura Dopo 4 turni diventa un 6-6 Non male Questo non è male, secondo me Cioè, diventa due pezzi Poi diventa creatura Beh Non male questa, eh Cioè, non so questa nello specifico Però come meccanica non è male Anche perché 4 mana a fare 2-2-1 volanti Non fa schifo, eh Ciao Azagaru Ecco, tipo questo non è male, secondo me L'unica cosa è che rispetto a Suspend Tu la puoi comunque togliere Ci rimane un incantesimo che puoi rimuovere Anche perché immagino ci saranno molti spacca incantesimi in questo set Suppongo Venga, di nuovo ste face down Eh, quella fa un sacco di value Anche perché quando attacca spam Data di uscita Dopo, questo dovrebbe uscire fra due mesi Tipo Perché esce prima Quell'altra Non ho idea Comunque Non mi ricordo adesso Ti si alza L'espansione è nuova Questa è l'espansione Su di creatura avversaria Il suo controllore manifesta Dread Quindi il giocatore Guarda e poi due carte della sua library Dopodiché ne mette Una nel campo di battaglia E una nel cimitero Se una creatura può essere girata Eh, però Drawback Forte Odio, è rimuva al secco, però Ogni tanto si pianta Ogni tanto si pianta Sì, rimuva al secco Umana Che però ti dà Sicuramente una 2-2 Sul campo di battaglia Non è male Però Il drawback c'è Eh, no, azza Funziona così 27 settembre questo Quando entra Puoi sacrificare Un altro incantesimo Creatura Se lo fai Pesca due carte Quando sacrifichi Questa Manifesta Allora il power level La occhio Sembra buono Ho un attimo sistemato Una cosa sull'Obs Scusa Questo Quando attacco Manifesta Allora Manifesta Significa che ti guardi Le mie due carte del mazzo La metti Una come creatura 2-2 coperta Se davvero una creatura La puoi poi girare Pagando come manifesto Il suo costo di mana E questo non sembra male Questo non sembra male Cioè te ne mette Una nel cimitero E poi ti mette sempre Cioè Con questa la paghi due mana Sì Cioè Sembra porta In questa espansione Non è instant E' più che instant Non passa dalla pila E' più che instant Se vale come di solito Valgono queste meccaniche qua Non passa dalla pila Cioè non puoi fare niente In risposta Vabbè Delirio lo conosciamo Eh Sembra forte Duskmon Cerca il tuo library Per una demon card Rivelala Mettila in mano Dopodichè Mescola Ok Questo è Demonic Tutor Questo è Con delirio E Demonic Tutor Questo qua Con tutto ciò che ne consegue Marina Vendrell Con tutto ciò che ne consegue Demonic Tutor C'era Diabolic Intent Però deve avere una creatura Da sacrificare Va capito E non si è giocata troppo Va capito Se questa Se l'effetto delirio Sia più facile da raggiungere Rispetto ad avere un token Da sacrificare E' rilevante Eh non lo so Az Appena è uscita Sono tipo La quarta carta Che vediamo Quindi boh All'inizio Della tua Second main face Se questa carta E' tappata Guadagni un effetto Attualmente combo In standard Non credo proprio Non mi pare Che siano in meta Oddio questo non fa schifo A prescindere Ho sbaglio Cioè questo è fortissimo Punto Anche per il costruito Questo è fortissimo Oh questo è forte Raga Questo è forte Forte Raga Non comune pure Che droppa uno Così 2-1 Piego 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 Devi usare un remove Su di lui Per forza Oh vabbè lo puoi bloccare Per carità Cioè un mana ragazzi Oh un mana Un mana 2-1 Che fa tutte quelle cose All'inizio del tuo hack Vick Surveil 2 Ogni incantesimo Nella tua mano A Miracle Il costo Miracle Con lo uguale al costo di mana Ridotto di 4 Il costo di mana Ridotto di 4 Altro comandante Altro comandante Il duno non comune no Non era leggendario A udici quella A udici quell'agente Cioè Bello tanto Bello tanto Bello tanto Aggressivo Quindi questo Questo è quando È solo Molto Sì E Sì 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 stanno pushando tanto sul comando no prendeva più 3 più 3 con lui e si levi 3 carte ciao fanga benvenuto grande zimone ciao ciao fanga no voglio riscrivere strong ma come si fa qua così seems very strong diamo così a caso one drop is really strong mi hanno messo il tempo di attesa per un messaggio e l'altro c'è un difetto alle persone che non vedo zozze non stanno online adesso evidentemente per lo standard si si per lo standard è forte sono psichedeliche queste art comunque le art sono belle questo cos'è che fa? è uno schema all'inizio del tuo hand puoi castare un aspetto alla tua mano senza pagare il mana cost watt omniscience che però funziona solo una volta oddio che cos'è questa cosa? sembra forte questo no no non so se non si capisce cosa sia però se non è commander si si è commander è commander si si commander è commander anche questo tutto commander ma per adesso ho visto carte forti comunque magic the commander esatto esatto problem eh no standard no anche se omniscience standard è stata poi non sappiamo il costo di mana di questa magari sarebbe stato altissimo però eh primo push la alza sicuramente esatto omniscience è ritorna per due mesi che è sta caffonata ah fanno vedere le art giappo giappo foil devono vendere in Asia giustamente no da luglio a settembre sono o da giù dal 30 giugno quando è uscita? mi sa che è uscita inizio luglio agosto c'è due mesi e mezzo quasi tre mesi ma quindi c'è una sala hanno obbligato i dipendenti a lavorare di sabato per andare a applaudire loro meno del solito forse una settimana meno perché sono tipo quasi tre mesi perché sono tipo quasi tre mesi finchia stanno stampando stanno stampando carte questi eh questi stampano soldi cioè ti rendo di conto stampano soldi questi qua cioè sono tipo una zecca di stato stampano soldi questa carta questa carta comunque è bella forte secondo me secondo me l'altra parte un terzo avremo una lingua japonesa l'impending è tipo suspend però rimane in quei turni in cui tu non hai una creatura rimane come incantesimo quindi l'enter the battlefield e tutto rimango sì anche quando attacca ciao Gabri benvenuto eh immagino perché poi c'è anche Hulk mi hai capito questa vediamola bellissimo è il disegno allora 1-4 rapidità tappo 1 fai un token che è una copia di un'altra creatura dei controlli ad eccezione che 1-1 red balloon sacrifica inizio del next step però l'enter the battlefield c'è e ha hast kiki jiki esatto che costa 3 a rapidità vola quella creatura lì ah la creatura che tu fai c'ha anche rapidità è questa questa espansione è forte ragazzi questa espansione sarà più forte delle delle ultime 3 questa è forte cioè la cosa forte di questa è che la fa quando entra cioè tu la fai di quarto vabbè di quarto no perché però nel senso cioè è un po' da build around però non è fable ovviamente però anche perché per una serie di motivi fable fa tante altre cose all'inizio del tuo upkeep ogni giocatore pesca due ah questo che abbiamo visto prima con delirio non hai un limite di carte in mano questa entra e scomba subito però devi avere la carta che vuoi sul campo di battaglia devi avere il mana o poi devi avere muval ricordatevi che esistono anche gli avversari esatto su youtube il pace worker è caito scarta la tua mano dopodichè pesca x carte dove x è il numero di carte e il numero di tipi di carte che c'è nel tuo cimitero allora questa può essere forte come no però potenzialmente puoi fare tappo 4 pesco 4 in colori che non pescano di solito eh instant c'è qualcosa modern playable però adesso non ho visto niente di quel livello lì vediamo queste source ah questo è demonic console oddio la pratta a tremana la pratta a tremana distrugge distrugge tutte le creatore tappate distrugge tutte le stappate sembra forte l'ultima praticamente un removal instant costa umana però secondo me il drawback è forte due mana a first strike durante il tuo turno quando un opponent pesca una carta fa un danno all'opponent orcis bow master e tom orcis bow master e tom quando pesca una carta anche quella del di turno quindi ok drop a 2 per monored sembra forte quella è forte il danno è solo faccia sì non è orchi però cioè voglio dire non sembra male ragazzi questa espansione qua non è da carta nuovisti questa è forte questa espansione è forte vi do la mia vi posso dire che questa espansione è forte ecco qua damnation damnation in historic damnation in timeless damnation vabbè in historic entra damnation abbiamo damnation ragazzi anche il nego c'è la sua la sua vratta anche in foundation damnation ah si non credo visto che esce come special quest no non sono standard però sicuramente entra in historic e timeless entra sicuramente in historic e viene giocata sicuramente in historic easycraft damnation si si c'è vrattof god non c'è damnation damnation non c'era su arena adesso c'è si in timeless no però in historic viene giocata damnation secondo me c'è tipo in dimir mancava la vratta oddio c'era c'è language però damnation è più forte boxy dell'alto di pagare i beat damnation è più forte dai un'easter egg video so tell us about what's going on in the lurking evil cards so if anyone's been like me in a haunted hotel or a haunted house you tend to see a shadow of the corner of your eye we wanted to kind of replicate the effect of something suddenly showing up and scaring you and so some of the cards that's one of the ideas that Emily Tang and I discussed before we even had concept art for this set we were like what if we put a monster in some versions of the art and but not in others and classico tipo che mori male nei film ok hai vinto Federico win win per te classico tipo che va avanti classico tipo che muore nei film sicuramente si it's our way of constituted it's our way of haunting it's yeah so and then for those of you playing the uh uh mark rosewater blogato game at home here's the answer to one of your trivia question uh but no Nora is here yeah apparently Nora got lost somewhere in the nad there and then ended up somewhere in domination but Sembra Stich. No, Goblin no, è un Gremlin. Gli schemi a cosa servono? Non si è capito benissimo. Sì, abbiamo visto solo degli schemi per Commander, però io non credo che si sono Commander. Quelli là che erano troppo forti, ok, però secondo me è magari una meccanica. Oppure no. Cos'è che fa questa? Allora, costo 1, 2, 1, non può bloccare. Quando una creatura dei controlli diventa bloccata, puoi esiliarla. La puoi giocare dall'esilio questo turno. Attacco con tutto. Ho visto, quelle che mi blocchino non tradano, ma le rigioco. E rifammo l'Enter the Butterfield. E che le vuoi dire a queste? Non è rapida. Vabbè, però. Se no, è Guida Goblin, cioè. Eh, questa per essere massimizzata deve essere giocata con delle creature con Enter the Butterfield, secondo me. Questa l'abbiamo già vista, praticamente. Non abbiamo capito come si sblocca la stanza. È una regola giusta, Azza. Quando uno più non-toy creature che controlli attaccano un giocatore, fai un 1-1 toy artifact. Le creature controlli hanno base power and tokeness, ok. Però, solo se sblocchi la stanza. Ma come si sblocca sta stanza? Ah, quindi la pago e sblocco. Ah, no, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Sì, 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 c'è scritto. Quando la giochi si sblocca la porta. Sì, sì, sì. Eh, però puoi pagare pure l'altra. Cioè, mentre c'è l'esercito sul campo di battaglia, se ho capito bene, puoi pagare pure l'altra, esatto. È come se fosse una classe con level up. packaging we've ever done, bar none. You can kind of see it here, it's lenticular. You may or may not be able to see that. But then we've got the deck box in there, and there's a ton of cool stuff in here, including a number of promo cards you can get, Mike. Sì, quindi non solo do you get these, the cards themselves as posters, right? So we made, you know, of course horror and movie posters. E cos'è questo qui? They're quite nice size posters. We also did, you can see there, uh... Yeah, so here are the, in the Nightmare Bundle. We worked with, uh, Tim Jacobus, who, uh, is another amazing artist, uh, if you're familiar with, uh, the novels that he's illustrated, um, they're wonderful. And so, three of the cards that we included as promo cards, uh, um, that you get, you get one of three of each of these in... Ma queste non penso entreranno su arena. Ciao, Tesoro, benvenuto. And then we also have Living Death, Goro's Vengeance and Archon of Cruelty, uh, in the movie poster style. Uh, and so for, for these, you know, once again, the Nightmare Bundle, you get a pack in there, the Nightmare Booster. Concept incredibile, ciao, ciao, Goro. No, ma non entrano, quelle lì, queste non credo entrino su arena, perché non sono Special Guest. Yeah, how do you rewind a Magic Card? How do you rewind a Magic Card before you return it? Uh, you put it in the VCR or whatever. Ah, you put it in the VCR or whatever. Figa, figa, figa. Uh, so let's take a look at all the products coming out with Dusk Mornin. Oh, magari questo lo regalano a Ecrieto. I will point out, so in the upper right, you're going to see some different packaging art for the Japanese collector boosters, so that's not something we do very often. And there's no collector boosters, just like the other language collector boosters, but Kaito is pretty awesome, and so we put Kaito on the Japanese collector booster packaging. Um, also coming back with Dusk Mornin, House of Horror, are Welcome Decks. So, we've had Welcome Decks gone for a while. Yeah, absolutely, applauded. Welcome Decks have been gone for a while. They're a great way to... Eh, no, i regali me li manda. The Reaccess non me lo fa' fare, ma i regali me li manda. O almeno. Mi da mo' li ha mandato. Mike, can you talk a little bit about what's in a Welcome Decks? Yeah, so in the Welcome Decks, um, uh, you get, uh, 60 cards, 30 of which will be a deck in the Welcome Decks, right? So if you have the white package, you'll get a 30 card white deck. We've included a little bit of booster fun in there, but, uh, those 30 cards are always the same in every white deck. Sì, sì, hanno annunciato belle carte. Secondo me questa espansione è un'espansione forte. Poi tutto questo video qua ve lo pubblico, ve lo metto anche su YouTube. In un package you get, um, everything you need to, you know, for you and a friend to start playing, uh, and afterwards, of course, you can shuffle them together, mix them, you know, do what you want, but we were excited to bring these back, because, you know, I mean, it's... We love magic and we want more people to love magic, so... Per i nuovi, se volete, ragazzi, potete entrare nel Discord, è aperto a tutti. C'è il link che è appena stato spannato dal bot in chat. Eh, ci sono delle carte fighe. Uh, all right, now let's talk about all the dates to keep in mind for Duskmarin House of Horror. There's a lot coming up. Oh no, it did the thing. Uh, okay, su Arena il 13 settembre. Non il 26, il 13. Quindi, uh, fra due settimane. Fra due settimane. Uh, grazie, Aza, per il quarto mese. Grazie, grazie, grazie. Gentilissimo. My Preferred Magic Street, gentilissimo. Grazie, grazie per il quarto mese, è bello. Questa esce fra due settimane, già. Ma scusami, Su Arena esce undici giorni prima del pre-release. Uh, settembre 20th through 27th, pre-release events. Minore era importante. Prego. Prego. Cioè, esce su Arena undici giorni prima che in cartaceo. Commander parties, october 4th through 10th. Uh, again, I'll call out that Nightmare bundle. What? October 18th, just in time for Halloween season. Uh, then we're gonna have a trick or treat. Eh, sì, nel senso che dopo il pre-release. Ah, sarà, sarà l'early access, sì, sarà l'early access, sì, 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 sì. Sì, sarà l'early access. Però no, perché non dice quando esce su Arena. Potrebbe essere il 13. Esce per il tuo trentesimo compleanno. Grande, drago. Boh, va bene. Lo scopriremo, suppongo. Allora non può uscire prima di 23 giorni. 24 è martedì. Eh, escono di martedì, solitamente. Boh, non lo so, però, sì. Vabbè, lo scopriremo quando usciranno. Io non sono pronto a non espansare. Eh, Magic è così, devi essere pronto. So much information. Abbiamo finito l'operazione. Io non gioco standard, quindi... Ma quindi sei tornato a giocare a Magic. Fa piacere, fa piacere. Beh, l'early access sta nel 13, ovviamente. Spooki session with Seanan McGuire in Room 214. Author and Tyvar fan extraordinaire. I'll note we didn't preview the Tyvar card in this. I don't know, that was weird. Yeah. So you may want to stop by Room 214 at 4 p.m. today. It's a haunted pop-up, and there may be a few other surprises there as well. So, I want to thank you all for joining us, and of course, thank you the panelists, and go and join us. Poca roba, giù su Alcartina Weekend, per riprendermi più continuità. Beh, se l'espansione è bella. Se ne vanno? Se ne vanno. Va bene. Beh, espansione che sembra bella. No, no, non, 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 non.